Chiara Ferragni arriva a Sanremo per il festival, la Villa Vista Mare e, l'angolo Porta Fortuna, Chiara Ferragni è arrivata a Sanremo ed è pronta per il festival. Sarà la co-conduttrice della prima e dell'ultima serata della Kermess. Tra le sue storie Instagram di oggi, 2 febbraio, ha mostrato i primi scorci della location in cui alloggerà per tutta la settimana, dalla vista mozzafiato all'angolo, Porta Fortuna. Chiara Ferragni è arrivata a Sanremo. Quest'anno sarò la co-conduttrice della prima ed è l'ultima serata del festival e, come ha mostrato nelle sue storie Instagram, l'emozione per questa nuova e inedita esperienza è davvero tanta. Oggi, 2 febbraio, a soli 5 giorni dal debutto, ha lasciato Milano ed è arrivata nella città di Milano. Grazie. 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 Chieserai i brand schiapparetti, Dolce, Ligapan e Dior.